Al 72 anni, è nato nel 1945 a New York, e si è laureato nell'Università di Washington a Seattle. Fa al 1971 al 1973 ha lavorato nel California Institute of Technology, Caltech, in Pasadena. Nel 1974 si è trasferito nella Brandeis University di Valtam in 1974, e nel 2002 in quella del Maine. Rosbach, 71 anni, è nato a Kansas City, e si è laureato nel 1970 nel Massachusetts Institute of Technology, MIT. Nei tre anni successivi ha lavorato in Europa, nell'Università scozzese di Edimburgo, e nel 1974 è rientrato negli Stati Uniti, e da allora ha lavorato nella Brandeis University. Young, 68 anni, è nato nel 1949 a Miami, e si è laureato nell'Università del Texas ad Austin nel 1975. Da allora fino al 1977 ha lavorato nell'Università di Stanford, e dal 1978 nella Rockefeller University di New York.